Se imprenditori o anche semplicemente i ristoratori possono sperare di poter riaprire le loro attività nel giro di qualche settimana, anche se con tutte le limitazioni del caso, la stessa cosa non si può dire per quelle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Parliamo di cantanti, parliamo di artisti, tutte persone senza lavoro da diverse settimane e per loro il ritorno alla normalità potrebbe essere una questione molto molto lunga, forse addirittura il 2021. Lo sa bene Federico Cammarata, frontman dei Pianeta Zero, una delle tribute band del cantante Renato Zero più importante d'Italia. A calendario noi abbiamo perso, da qui fino a fine ottobre abbiamo perso una cosa come 57 date. Purtroppo e me, a prescindere dalla preoccupazione generale totale che si è creata per colpa di questa pandemia, però adesso siamo proprio, noi siamo stati quello che è il nostro settore, i primi a chiudere e forse saremmo gli ultimi a riaprire, ma nel vero senso della parola, perché purtroppo il nostro lavoro porta assembramento totale, se non c'è assembramento noi non possiamo lavorare. Noi, lo spettacolo, i professionisti dello spettacolo, non solo chi è davanti, ma tutti coloro che sono dietro a quello che è una produzione cinematografica, a quello che è una produzione teatrale, a quello che è una produzione di musica dal vivo, concerti, grandi concerti. Alcuni dei grandi artisti, come Laura Pausini, Vasco Rossi, Piero Perù, hanno fatto naturalmente dei videomessaggi per arrivare alla subparlo ai signori nelle poltroncine rosse e capire i da farsi. La speranza nel breve termine è che dal governo possano arrivare quantomeno prospettive precise per il settore dello spettacolo, un modo per tagliare un po' di questa incertezza che avvolge completamente questi lavoratori. Purtroppo Facebook non basta, Instagram non basta, il web non basta, bisogna che magari ci farebbe piacere che in un nuovo decreto che presto uscirà dicesse che questi signori che ci riprendono con le telecamere, questi signori che fanno musica, questi signori che fanno intrattenimento che è necessario e serve alla popolazione. La nostra rabbia, tra virgolette, di non tanto decidere cosa aprire, quando e prima, ma perché non parlarne? Non parlano di concerti, non parlano di spettacolo, non parlano di aperture di teatri, non parlano perché? Perché siamo considerati forse l'ultima rota del carro? Lo spettacolo in generale, i concerti, la musica dal vivo, le opere, tutto quello che è parte di spettacolo e affini porta tanti soldi al territorio italiano, porta tanti soldi ai ristoranti, porta tanti soldi ai locali, porta tanti soldi a tutto quello che è nelle vicinanze dell'evento in questione. E quindi non parlarne così, non farlo chiaro come gli altri punti, come le altre attività, come le altre filiere che sono importanti naturalmente alla nostra necessità di andare avanti, di produrre e di vivere, però dove siamo andati a finire noi? Pensare ad un concerto in questo disgraziato 2020 è come immaginarsi un'utopia? In Italia tantissime persone vicine l'uno all'altro, spesso letteralmente a contatto, traccanti a squarciagola, abbracci e condivisione collettiva. Tutto ciò in pratica che il Covid-19 ha cancellato in questi ultimi mesi. Come si sa, quando c'è una caduta, molto spesso, perlomeno ce l'auguriamo, ci sarà una forte rialzata, una forte ripresa. E quindi sicuramente ci sarà voglia, almeno per quanto riguarda un parterre più giovane, di riuscire, di rincontrarsi, di ricondividere momenti tutti insieme, quindi nelle piazze, a ascoltare il cantante preferito, chi lo tributa, il proprio cantante preferito. E quindi noi avere così l'entusiasmo di poter regalare e rioffrire tutto quello che possiamo fare con il nostro lavoro, che è l'intrattenimento, la riflessione, l'emozione e tanto tanto cuore. Che se non c'è cuore, insomma, il nostro lavoro credo che è un po' difficile farlo.